ciao a tutti in questo video vi mostrerò come agganciarsi al bastone questi diversi modi vi saranno utili per iniziare un arazzo o magari un portapiante o qualsiasi cosa vi passi per la testa un po' di più un po' di più un po' di più Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. In questo tutorial impariamo a realizzare il nodo piatto. Avremo bisogno di due coppie di fili, quindi, come prima cosa, vediamo uno dei modi per agganciarsi al bastone. Il nodo piatto è il nodo più usato nel macramè. Si lavora con quattro fili ed è composto da due movimenti. Per il primo movimento tenete fermo i due fili centrali, chiamati portanodi, e lavorate con i fili laterali, detti annodatori. Passate il filo annodatore di destra sopra i due fili centrali e sotto l'annodatore di sinistra. Poi, prendete il filo di sinistra e fatelo passare dentro l'asola formata sia a destra. Col secondo movimento partiamo dal filo di sinistra e ripetiamo la sequenza. Una volta fatta passare il filo annodatore di destra dentro l'asola, tirate, tenendo fermi i due fili centrali. Avete realizzato il vostro primo nodo piatto. Per imparare bene il nodo piatto ci vuole un po' di allenamento, ed ora continuate ad annodare. Ciao a tutti, oggi impariamo a realizzare il nodo spirale, detto anche nodo torciglione. Per questo nodo avremo bisogno di quattro fili. Il nodo spirale potremmo definirlo una variante del nodo piatto, infatti si realizza ripetendo sempre il primo movimento del nodo. Per qualsiasi dubbio sulla realizzazione del nodo piatto ti invito a guardare il tutorial corrispondente su questo canale YouTube. La ripetizione continua del primo movimento del nodo piatto farà in modo che si crei una spirale in maniera spontanea. Buongiorno a tutti, oggi vedremo insieme come creare il nodo a pallina. Per prima cosa ci servono due fili separati e iniziamo lavorando il primo nodo piatto. In caso di dubbi su come si svolga il nodo piatto potete andare a vedere gli altri tutorial caricati sul nostro canale. Effettuato il primo nodo piatto, a distanza di circa un centimetro andiamo a lavorare in serie altri quattro nodi piatti. Qui lasciamo uno spazio che vedremo poi successivamente per che cosa ci serve e proseguiamo. Primo nodo, secondo, terzo e quarto. Conclusi questi quattro nodi piatti in serie andiamo a prendere queste due estremità e le facciamo passare nei rispettivi fori in alto. Uno e due. Una volta effettuato quest'operazione tiriamo e come vedete si viene a creare la nostra pallina. Per fissarla facciamo un ultimo nodo piatto alla base, stringendo il più possibile in modo tale da rendere la nostra pallina immobile. A questo punto il nodo a pallina è concluso e volendo possiamo proseguire facendo altre palline in serie. Buongiorno a tutti! Oggi andremo a vedere come realizzare il nodo piatto alternato. Per prima cosa ci servono due coppie separate di fili. Con la prima andremo a lavorare il primo nodo piatto. In caso di dubbi su come effettuare il nodo piatto, vi invito ad andare a vedere il video sul nostro canale. Primo nodo piatto. E adesso su quest'altra coppia di fili andiamo a realizzare un secondo nodo piatto che si ha alla stessa altezza. Una volta effettuato avviciniamo le due coppie di fili perché d'ora in poi andremo a utilizzare parte dei fili di questa coppia e parte dei fili di quest'altra coppia. Andiamo quindi a selezionare i due fili di destra della prima coppia e i due fili sinistri della seconda coppia e andiamo a fare un altro nodo piatto. Possiamo decidere se farlo più stretto vicino ai primi due nodi oppure più largo. In base alla distanza che sceglieremo cambierà la trama, sarà più o meno fitta. Una volta effettuato questo terzo nodo piatto, possiamo proseguire svolgendo un altro nodo piatto utilizzando i primi quattro fili. Manteniamo la stessa distanza tra questo e questo nodo in modo tale che il lavoro sia simmetrico. E facciamo lo stesso anche per quest'altra coppia di fili. A questo punto, come potete vedere, abbiamo appena realizzato una trama che può essere utilizzata e sfruttata per realizzare diverse decorazioni in macramè, come possono essere degli arazzi, dei portavaso, dei portachiavi e oppure liberate la vostra fantasia. Si può quindi proseguire con questo partner in lungo oppure si può anche estenderlo per la larghezza. Ovviamente vi invito a utilizzare sempre coppie di fili in modo tale che il lavoro possa essere simmetrico. Buongiorno, impariamo oggi a fare il nodo barretta. Il nodo barretta è composto da un filo che sarà il corpo centrale e tutti gli altri fili che saranno i fili annodatori. Il corpo centrale darà la direzione dal nostro nodo barretta. Seguendo l'ordine delle corde prendiamo il primo filo e lo avvolgiamo da dietro ad avanti intorno al nostro corpo centrale due volte. Il primo giro ci servirà per dare la direzione, il secondo per fermare il nodo. Passiamo poi al filo successivo e allo stesso modo avvolgiamolo intorno al corpo centrale due volte. Procediamo in questo modo per tutti i fili fino a dove vogliamo che arrivi il nostro nodo barretta. Grazie a tutti. E' possibile realizzare anche un nodo barretta inverso. In questo caso manterrò sempre lo stesso corpo centrale e procederò nell'altra direzione. Mentre prima il corpo centrale stava davanti ai fili annodatori, in questo caso sarà l'inverso. Il filo annodatore passerà davanti al corpo centrale e si avvolgerà intorno al filo passando da sotto a sopra due volte. Questo procedimento come prima per ogni filo. Quindi il filo annodatore passa davanti, poi da sotto va sopra, la prima volta e la seconda. Questo modo è differente di fare il nodo barretta può essere utile per creare delle texture diverse all'interno dei nostri lavori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Impariamo adesso a fare il nodo barretta verticale. Per il nodo barretta verticale ci servirà un filo esterno a quelli attaccati al legno. Tutti i fili appesi al legno saranno i nostri corpi centrali, mentre invece il filo esterno sarà il nostro filo annodatore. Facciamo passare il nostro filo annodatore dietro al corpo centrale e avvolgiamolo intorno al corpo centrale due volte. In questo modo. E facciamo questo procedimento per ognuno dei nostri fili. Grazie a tutti. 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 Una volta arrivati all'estimità possiamo anche tornare indietro procedendo allo stesso modo ma invertendo la direzione. Grazie a tutti. 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 per aver seguito questo video ti invito a iscriverti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi tutorial e al canale per rimanere aggiornato sui prossimi tutorial.